buongiorno ragazzi benvenuti in questo nuovo video oggi parliamo di nuovo di rice e vediamo come creare la nostra prima rice bene questo video quindi è dedicato ai principianti a chi quindi non l'ha mai fatto perché andremo a vedere solamente le basi 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 partiremo da zero non raggiungeremo un grandissimo livello oggi ok ma creeremo una rice funzionante funzionale e pronta per l'utilizzo poi le personalizzazioni sono infinite ma vedremo come per avere un sistema funzionante sia veramente necessario pochissimo tempo poi si potrà andare a customizzarlo come si preferisce andiamo sul pc e vediamo come fare allora eccoci qui siamo su xubuntu ho deciso di partire da ubuntu 24.04 per un motivo di cui vedremo dopo ok quindi abbiamo snap sopra ma l'ho fatto consapevolmente per alcuni nei principianti quasi che lo consiglio perché vi da alcuni piccoli vantaggi su alcune cose poi quando imparate a capire meglio il mondo fino a personal software potete decidere voi se snap al caso vostro o meno c'è una guerra adesso in questo momento su questi argomenti ma ognuno sceglie come sempre quello che è meglio crede soprattutto in ambito e linux in ambito free and open source soprattutto free quindi non è libero di fare quello che gli pare prima cosa da fare è lanciare il terminale a sono su xubuntu anche perché xfc e se ne parla molto poco ma è un desktop environment veramente fantastico uscirà un video a breve dove vi mostro come lo si può utilizzare far diventare un sistema molto molto usabile prima cosa da fare su da pt update logicamente così siamo a posto con i pacchetti aggiornati e poi dovremo andare installare i3 sudo appti install i3 i3 cos'è non è una desktop environment ma è un windows manager ok quindi un sistema di gestione delle finestre ce ne sono altri ce ne sono alcune alternative ma i3 è il più diffuso e soprattutto è quello che ha più documentazione e quello che io personalmente utilizzo principalmente per il fatto che ci sono più risorse online praticamente quindi è anche più facile da andartelo a personalizzare customizzare poi ce ne sono altri quindi ognuno può scegliere quello che meglio crede come sempre è tutto fatto praticamente ok possiamo chiudere possiamo fare un bel riavvio e abbiamo installato i3 in realtà forse non serve nemmeno fare il riavvio ma è sufficiente uscire dalla sessione qui andiamo a selezionare i3 vedete che comparirà i3 qua su xubuntu abbiamo la possibilità di cambiare desktop environment in alto su xfc e su gnome sarà qua in basso ok su kde non me lo ricordo perché un po che non lo uso su pantheon per chi usa le mente riveste sarà qua vicino alla password quindi ogni desktop environment ha il suo sistema di login di pratica dentro il computer come dicevo non è un desktop environment quindi se adesso facciamo invio allora al primo invio ci chiederà alcune cose di configurazione ok quindi non hai mai configurato i3 prima allora qui in pratica se vuoi che i3 ti crei un file di configurazione di default suo in questo caso sì perché invece ce l'ha già può fare no e importarsi le sue personalizzazioni in questo caso facciamo enter dopodiché ci chiederà di scegliere qual è il nostro tasto principale ok il tasto con cui vogliamo far partire le operazioni perché con i3 si può fare a meno del mouse che deve essere giallo per legge e si possono utilizzare soltanto comandi da tastiera giocamente per far sì che un comando non venga preso come sto scrivendo per esempio la d non scrivo la d ma la d che mi faccia un'azione devo fare la d con un tasto insieme con un tasto super diciamo io tendenzialmente tendo tengo il tasto windows come super chi e se volete scegliere alt potete anche usare il tasto alt io preferisco win così più che altro evita di andare a sovrascriversi con altre short card di altre software che possiamo installarci e voilà questo è i3 allora in questo caso con subunto mi ha mantenuto il lo sfondo di subunto ma se avete altre disto potreste avere uno sfondo nero per andare a cambiare lo sfondo bisogna fare alcune operazioni non esiste un settings ok non esiste un punto dove andare con semplicemente copiare una cartella ma questo lo vedremo magari in video successivi adesso vediamo soltanto il funzionamento di base ok qua sotto c'è la barra di gestione di i3 dove vediamo qua sotto gli schermi ok questo è lo schermo 1 se noi facciamo windows 2 vedete che compare il numero 2 qua sotto e vuol dire che siamo su windows 2 windows 3 4 5 6 7 8 9 ok possiamo cambiare workspace cambiare schermo schermata ok ora qua di lato abbiamo un po di dati tecnici sul nostro computer a partire dall'ora ok poi quanti ram quanta stiamo consumando la batteria sono in macchina virtuale quindi non me la vede dopodiché per lanciare un programma la cosa principale da fare è utilizzare il di menu all'inizio poi si possono installare dei lanciatori diversi ma il lancer di default di i3 è il di menu di menu di ridomo d'ossera e si lancia facendo il tasto super di quindi windows più di vedete che compare qua in alto una barra questa barra contiene in ordine alfabetico tutti i pacchetti installati sul nostro computer ok non le app proprio tutti i pacchetti che vediamo ci sono anche i driver alza che sono i driver audio ci sono un sacco di robe se poi poi facciamo fire e vediamo che compare fire fox ok qua sulla sinistra possiamo fare la ricerca per quello che vogliamo chrome per esempio non ce l'ho cosa c'è niente perché tuner ok tuner che il file manager ed eccolo qua abbiamo aperto un app che vediamo adesso non abbiamo qua in alto o di qua la x per chiuderla o per ridimensionarla queste cose qua sui tre non esistono per chiudere quindi un'applicazione dovremmo fare windows shift e q tasto windows più shift più q me la chiude ok proviamo a lanciare command con scusate windows ogni tanto mi svaria una tre varie operativi fire fox lanciamo fire fox ed eccolo qua per uscire da fire fox windows shift q e usciamo da fire fox prima aprire command di fire fox e poi apriamo lì vicino quindi facciamo command di tuner che in questo caso è il mio file manager se siete su gnome lanciate nautilus che su kd e nemo che si chiamano ricordo comunque lo saprete voi presumo sul vostro sistema operativo allora è impossibile anche utilizzare il mouse lo si può disabilitare dalle configurazioni di tre all'inizio vi consiglio di tenerlo ok di utilizzarlo e così in modo che se vi perdete non sapete più dove siete con la tastiera anziché andare in paranoia spostate col mausino e andate dove volete ok ora ho aperto il file manager in realtà ci si possono utilizzare anche file manager da terminale in modo da non dover proprio mai 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 utilizzare il mouse però questo magari andiamo avanti con questi video tutorial e vedremo come proseguire adesso alcune cose che si possono fare qui sono per esempio se io adesso come vedete è un tiny window manager ok non mi sono soffermato su questo all'inizio però tutte le applicazioni che si aprono adesso ho sbagliato ho fatto con windows f e mi va in full screen lo rifaccio e mi torna normale lanciamo un'altra applicazione adesso qui è vuoto cosa lanciamo lanciamo un altro firefox e vediamo che me lo fa me lo butta qua di lato ok ogni app che apriamo se abbiamo un altro firefox ancora visto che non ho altre applicazioni installate qui me lo butta qua di lato adesso vediamo se volessi non avere questa schermata doppia ma avere ogni app su uno schermo che quello che uso io solitamente io raramente utilizzo una schermata in tiling non non mi ci trovo proprio ogni tanto se devo qualcosa sui file ma con il terminale di lato e il desto qui ma io preferisco avere tutto sullo schermo quindi per esempio andiamo su tunar facciamo command shift 2 e vediamo che tu una sparisce non c'è più adesso facciamo windows 2 e vediamo che è qua e sullo schermo numero 2 vediamo che compare il 2 qua sotto abbiamo il 2 se andiamo sullo schermo 2 su tunare e facciamo windows shift 8 ok andiamo sull'otto quindi facciamo windows più 8 e ce lo vediamo qui e vediamo che 2 3 4 5 6 7 sono spariti qua sotto perché sono vuoti qua sotto vediamo solamente gli schermi che hanno qualcosa al loro interno rispostiamolo sul 2 torniamo sul 2 in questo modo io posso passare da uno all'altro al volo quindi io scrivo di qua vado di qua scrivo di qui ok installiamo un programma che possa servire allora control contro windows super che non lo permette super invio mi apre il terminale che è super inviare il terminale e quindi qui su punto abbiamo snap usiamo snap ora e qui vi spiego perché facciamo sudo snap install code per installare questo studio code e bisogna dargli il flag classic perché è stato pacchettizzato è stato tirato sul stamp con il flag classic adesso un paio di minuti neanche 50 secondi ci installa code nel mentre apriamo un altro terminale e andiamo a vedere il file di configurazione apriamolo con nano adesso poi la programma concorso teniamo lì così ci diamo un'occhiata e su config punto config i3 slash config questo è fa di configurazione qualcuno di voi ne mi ha chiesto nei commenti anche di specificare cose che per molti possono essere banali quando si parla di file dot ok dot files file dot sono semplicemente cosa vuol dire file quel punto no dot vuol dire punto file quel punto sono semplicemente i file che sono contenuti dentro la cartella punto oppure un file che inizia con il punto i file quel punto sono file nascosti ok qui apriamo file manager come vedete qua sono nella mia home ok oma del mio utente e qui non vedo la cartella punto config ma se io vado a visualizza mostra file nascosti vediamo che punto conti c'è ok quindi dot file sono i file nascosti perché non sono fai che utilizziamo quotidianamente sono fai di configurazione per le nostre applicazioni che vengono usati una volta ogni tanto per fare qualche configurazione poi è bene nascondere altrimenti avremo come vedete qua una home molto molto ingombrante ok possono essere sia cartelle come la cartella punto config punto local punto ssh possono essere anche file tipo il file basher si molte sacre si o il file profile dove si possono possono servire per dare delle dei compiti al computer anche ma questo lo vedremo anche in altri video successivi quindi chiudiamo pure file manager apriamo col nano canano già presto al lato perché andrà per tutto quindi possiamo aprire questo file e vediamo questo qui è il file di configurazione di i3 vediamo che abbiamo il mod che il mod 4 che vuol dire che il tasto di modifica nostro tasto super il tasto windows e qui possiamo cambiare il font e qui abbiamo il tasto ex che che lo vediamo fra un attimo possiamo fare windows shift q per chiudere e adesso abbiamo code installato perché l'ho fatto con snap perché col di menu se installiamo un'app tramite snap o tramite apt la vediamo qua sopra se io fa scrivo ci sono ancora che faccia scrivere code vediamo che c'è code dal di menu e possiamo lanciarlo se ne stiamo con flat pack in automatico di menu non riesce a raccolterla ad inserirla perché fatta che installi in una cartella che di menu non va a controllare praticamente quindi bisogna andare a creare un link manualmente è la cosa un pelino più complicata quindi non è chissà che se tutto si fa facilmente in realtà però bisogna farlo per ogni singola app quindi in questo caso se uno vuole utilizzare flat pack conviene a mio avviso non usare di menu ma utilizzare un altro launcher ma questo ne parleremo più avanti invece così siamo abbiamo potuto installare code che adesso lo chiudiamo di nuovo torniamo di qui apriamoci il file di configurazione con video studio code così è più facile vederlo modificarlo cambiarlo quindi facciamo code punto config i3 config invio e ce lo apre di qui adesso visto che qui è troppo piccolino facciamo command shift 3 e ce lo buttiamo nel nostro schermo numero 3 e siamo finiti di qui eccoci lo qua possiamo cambiare il font in realtà io solitamente lo lascio ex ex è che un comando che dice a i3 di lanciare un programma lanciare un comando lanciare qualcosa ok quindi potete lanciare un programma come per esempio se utilizzato un laptop potrebbe servire usare fusuma per avere le gestures da nei browser che io solitamente uso per quello oppure può essere utilizzato per lanciare dei comandi per esempio per di configurazione posta del vostro pc se prossimo sito su un laptop e provate a cambiare la luminosità dello schermo non è detto che funzioni alzare abbassare il volume non ha detto che funzioni allora il volume dovrebbe funzionare perché lui ha già di default i suoi puls audio ma per esempio sul mio lenovo due in uno non mi funzionava dovuto cambiare alcune configurazioni per configurazione configurare la luminosità può essere probabilmente anzi 90 su 100 non vi funziona e dovete andare a farlo male ma lo vedremo quando andremo ad entrare un più nel dettaglio qua sotto avete comunque la guida c'è la configurazione invece anche come si fa poi ad usarlo ok per esempio modo più j vi fa il focus sul left k va giù l va su o grave va a destra avete visto io non sono capace di utilizzare questi che i band in se ok se andiamo di qua e io adesso sono sul terminale vedrete che azzurrino ok se io faccio command j vedrete che l'azzurri non è va di qua con mand o grave e torno di là ok e molto questi tre la fa così perché avete queste quattro dita l'indice sulla j e quindi potete fare destra sinistra su e giù ok e usate la stessa mano io che utilizzo vim come editor di testo non mi ci trovo perché vim ha degli altri chi bindings e quindi la prima cosa che faccio solitamente io è andare a cambiare questi poi si possono anche usare quelli un pochino più umanizzati no quindi con le freccettine modo e freccia su freccia giù freccia sinistra che così uno se proprio si perde può usare le frecce in realtà avendo sapete com'è la postura delle mani sulla tastiera sapete che sul tasto f e il tasto g ci sono due reghettine che sono dove devono essere gli indici e le altre dita sono qua dietro e quindi le frecce sono qua di lato io devo alzare la mano spostarla mentre la combinazione di tasti di vim che è assolutamente geniale ed è utilizzata da 40 anni non molti anni molti decenni consente di fare un sacco di operazioni muoversi all'interno di un testo di una schermata mantenendo l'indice e i due indici sui tasti appunto f e j e andando a fare su e giù io personalmente trovo che ho fatto ragioneria le superiori la materia più utile in assoluto che ho mai studiato non è stato informatica non è stato economia non è stata matematica ma è stato trattamento testi dove ci hanno insegnato la dattilografia praticamente e infatti è stata la odiavo in quegli anni lì però adesso è una delle cose che sento che mi è veramente servita molto perché riesco a muovermi a delle velocità molto superiori combinato un uso della tastiera veloce con l'imparare i movimenti di vim ti porta veramente a volare dentro il tuo computer e questa è una cosa molto divertente poi mod h io adesso questi qua non fatica farvi vedere perché li modifico ok appunto perché per me il mod h va a sinistra e quindi tendo a modificarli però mod h mi fa lo split in verticale e il mod b mi fa lo split cioè ma che in orizzontale e il mod b mi fa lo split in verticale quindi chiudiamo questo terminale diciamo che lo vogliamo sotto firefox ok anzi non fare proprio giusto che stia qui quindi torniamo andiamo sul nostro file manager quindi eravamo di qui guardate l'azzurro ok eravamo di qui quindi facciamo mode j per spostareci di qui facciamo mod v per dire adesso splittame in verticale di menu lanciamo il terminale e voilà vedete me l'ha messo qua sotto in verticale ok se adesso io gli faccio poi un mod h quindi in orizzontale e di lancio un firefox vedete mi ha preso questa sezione e me l'ha splittata in orizzontale e mi ha messo firefox qua dentro una volta che queste cose qua vengono digerite dal nostro cervello la mente si occupa di fare queste cose come guidare no tutte le volte che metti la seconda la terza la retta non è felice ok tiro la frizione salgo di giri faccio di cambi sposto la mano lì rimondo la frizione riaccelerano ti viene in automatico tutte queste cose qua vengono anche in automatico questo momento sto faticando perché io ho dei chi bandings diversi ok e quindi fatico trovare quel di default di i3 proprio perché la mente associato già e questi movimenti ad altri tipi di ad altri tasti command f windows f super f che mentre volete per andare in full screen quindi siamo di nuovo andiamo di qui siamo su questo mozilla qua vedete siamo su questo mozilla lo vogliamo mandare in full screen per un attimo per conto allora una roba command f questo qua amici ma in full screen totale posso navigarlo bene command f un'altra volta e torno alla mia visione alla mia schermata il resize eccolo qua è anche molto importante vediamo solo più questo poi sulle customizzazioni andiamo avanti successivamente in altri video perché altrimenti diventa troppo troppo lungo andiamo torniamo sul nostro schermo 2 che quello più incasinato ok vogliamo che questo questa sezione dello schermo sia molto più larga vada fino a qui è possibile aggiungere le possibilità di farlo con il mouse ma noi vogliamo smettere l'uso del mouse ok come smette tutte le sigarette quindi facciamo diamo di qua andiamo a rivederci quelli originali che non mi ricordo mai ok sono sempre j k l o grave quindi o le freccettine le freccettine possono aiutarci quindi facciamo mod r e freccia e freccia ok mod e vedete qua sotto cosa importante che è arrivato è comparso un flag rosso che ci dice resize quindi siamo in modalità resize quindi se io schiaccio dei tasti adesso vedete ho cambiato il focus ma resto in modalità resize per uscire faccio esc ed esco dalla modalità resize e sono a posto quindi quello che volevo fare era command r di qui e poi facciamo o grave per spingerlo spingiamo in tutto quanto di là e allarghiamo le cose adesso facciamo esc possiamo rispostarci sul mozilla per esempio che questo è troppo piccolino comma shift q chiuso torniamo anche sopra su turnare lo chiudiamo anche che non ci serve e questa è una schermata che potrebbe essere utile per avere non so un npm che ranna di qua e un sito in locale che gira di qua su firefox ok bene questa era una primissima visione come vedete adesso è già funzionale io non ho bisogno di fare altre cose per poterlo usare per lavorare per esempio un programmatore che bisogna di visual studio code un editor di testo e un terminale poi si installa tutte quante le suoi utiliti le sue cose da terminale ti stai l'inpm ti stai l'incomposer tutto quello che vuoi io sono un php quindi sono affezionato a composer e poi puoi lavorare tranquillamente senza problemi imparandoti questi quattro chi binding di base se invece vuoi avere uno schermo tuo diverso una cambiare i colori da giù qua cambiare il colore dall'azzurro in un altro cambiarti i colori della finestra in focus cambiare gli spazi qua tra le tra le applicazioni cambiare il launcher non avere di meno avere qualcosa di un pochino più elegante cambiare i valori che vedo qua sopra perché alcuni possono interessarmi o meno allora c'è chi io ho visto persone che usano approcci diversi c'è chi utilizza questo standard e basta ok io ho iniziato tenendo questo cambiandomi i key bindings quindi andando qui semplicemente a cambiarmi i valori e in h j k e l al di menù e praticamente basta posso usarlo sia qui nel resizing che qui poi nel focusing nel focus e io sono pronto ad usarlo poi dopo un po' ho detto beh però perché devo avere l'azzurro come colore di focus quando il mio colore è giallo allora ho messo il giallo lì poi perché devo avere il di menù che ogni tanto mi fa casino con le applicazioni che ho installato tramite flat pack allora io ho installato albert launcher perché sono appezionato al nome albert che come sapete è il mio nome con la oltre infine perché sono italiano però lo trovo utilizzo quello perché mi piace e basta non ho fatto grosse altre cose sì sono andato anche a customizzare un pochino la barra qua sotto e a farla sparire e comparire come vedete nell'altro video poi io tendo a utilizzare quando utilizzo i tre neo beam con t max e quindi ho tutto quanto splittato tutto quanto con le stesse key bindings e quindi un sistema dove mi muovo dove mi sento di poter volare di qua e di là non con tutti i progetti uso neo beam perché sto provando a fare il passaggio non sono ancora pronto inutile dire che uso neo beam come elettor principale in realtà quando sono nelle corte ho i tempi stretti uso ancora vs code perché ci sono più abituato e lo uso da otto anni il primo ce l'ho preso a studio quindi non è che in due mesi posso sopprire otto anni di pratica di abitudine comunque questa è la base di partenza se questo video vi interessa potremmo proseguirlo andare avanti vedere come da una cosa stabile funzionale funzionante trasformarla anche in una cosa personalizzata bella da vedere carina che piace a noi come tutte le cose fantastiche che potete trovare sul subreddit unix porn per esempio per chi è abbastanza nerd da essere appassionato di queste cose come sottoscritto e quindi avere un sistema, un computer, un sistema operativo che sia veramente tuo dalla A alla Z ci manca soltanto che ci compriamo i pezzi e ce li montiamo e quindi tu ti prendi un framework laptop e ti stagliano e cose del genere e quindi ti sei fatto computer tu dalla A alla Z ed è una figata pazzesca può non piacere a tutti però a chi piace ci piace ok? a ognuno ci piace c'è quel che ci piace no? quindi tanto è bene forse volevo dire io qualcos'altro ma come sempre io questi video lì improvviso no una cosa devo dirvela ok? che mi sono dimenticato alle brutte quando volete fare qualcosa che non vi trovate su i3 ma anche su Coolite, su altre window manager anche su Linux in generale c'è un programma che non funziona avete una roba che non vi quadra e funziona c'è GPT ok? provate a usare c'è GPT per questo e vi dico che è molto molto più efficiente rispetto a che cercare sui forum poi dal punto di vista etico anche qui l'AI, il futuro non lo so vedremo sinceramente l'AI mi prenderà il lavoro mi ha fatto morire da ridere quello che ha detto Linus Torvalds qualche intervista di qualche tempo fa che gli hanno detto allora breve l'AI se ti sostituirà e lui mi dice finally ok? dopo 30 anni che lavora finalmente qualcuno lo sostituisce boh io sinceramente la penso abbastanza uguale ok? se l'AI arriverà a fare la programmatrice per me finalmente vuol dire che io non scrivo più codice io dico all'AI cosa fare e tutto ma sto facendo un'app interamente con l'AI ve la porto a vedere non sarà un'app ho fatto un'app in 5 minuti con l'AI ok no? sarà una roba reale che poi potrete vedere sarà open source e potrete anche vedere voi ma vediamo come tempi sono sempre un po' lunghino perché comunque devo anche lavorare in mezzo quindi per esempio volete cambiare i colori? lo vedremo nel prossimo video nostro ok? però potete andare su GCPT o quello che preferite l'AI che preferite e chiedergli ciao vorrei cambiare il colore del focus di i3 come posso fare? e lui vi dirà la stringa da inserire dentro il file di configurazione per poter cambiare e mettere il colore che volete ciao vorrei installare Polybar ok? che è una barra molto figa e lui vi dirà come fare se volete logicamente dovete sapere qualcosa prima come sempre l'AI da sola non fa niente se tu non la istruisci per ora per ora poi se in futuro mi farà il caffè nella cucina che ho di là mi aeroporterà qua con un robottino ve lo metterà anche in bocca con la cannuccia un caffè con la cannuccia è orrendo però vabbè vedremo vedremo è inutile staremo a vedere che succederà per oggi è tutto quindi qualcosa me la sarò perso ma come sempre io improvviso e quindi mi dispiace ma farò dei video aggiuntivi l'idea è quella di di proseguire con questa serie sui tre e sulle rice non ho neanche detto cos'è una rice l'ho to per scontato ma lo scriverò sotto oppure lo scriverò lo dirò in un altro video oppure andate su Google a cercare o chiedete ah c'è il GPT comunque penso che se avete visto questo video perché siete già nel mood e quindi più o meno dovreste sapere che cos'è alla prossima fammi sapere se ti è piaciuto e se ti è piaciuto dai metti un bel pollice in su e se vuoi anche guardare l'iscrizione mi serve anche a me per moralmente per esplanarmi a fare altri video se interessano perché se non interessano nessuno è inutile farli alla prossima ciao